Amici telespettatori ci troviamo in località Cerdine precisamente in una zona che divide in due Agropoli e Castellabate come vedete alle mie spalle Santa Maria di Castellabate e questa è la località che porta appunto nel paese di Benvenuti al Sud. Ci troviamo qui per denunciare un fatto assolutamente incredibile, un inquinamento che non ha limiti, mentre eravamo per un'escursione per delle riprese panoramiche nel raccontare le bellezze del territorio che cosa abbiamo trovato? Abbiamo trovato degli scarichi assolutamente dannosi per la nostra macchia mediterranea. In realtà qualcuno ha versato in modo illecito questi oli, questi residui su tutta la collina come vedete, sulla cunetta, sulla strada che porta naturalmente fino a Tresina, fino a Castellabate. Come vedete se l'operatore inquadra, lungo la cunetta della strada il verde è diventato marrone a causa di quest'olio che viene sversato e che brucia assolutamente le piante, brucia il verde. Ne è evidente, come vedete dall'inquadratura di questa pianta che è chiamata mortella. Come vedete da una parte la mortella è verde, da quest'altra parte è assolutamente diventata scura, è bruciata, immacchiata. Questo perché? Perché i camion nell'attraversare la strada, avendo alti gli sversatoi, almeno da un metro, un metro e cinquanta, nel percorrere la strada ecco sversano su questo lato, sversano questi oli assolutamente dannosi. Ce ne siamo accorti perché sentivamo un odore nauseabondo, ve lo posso assicurare. Guardate, nel dettaglio qui si tratta di uno sversamento, penso, avvenuto non meno di quattro o cinque giorni fa. Questi oli causano una condizione assolutamente disastrosa per il nostro territorio e siamo rimasti davvero allibiti da questa assurdità in un certo senso. Perché ci chiediamo? Perché dove ci sono effettivamente delle regole, delle leggi, non rispettare questo e uccidere la natura? Perché è così che stanno facendo. Guardate, vi ripeto, durante tutto il tragitto e andando ancora avanti, noi andremo ancora avanti, tutto questo porterà man mano alla distruzione di questa bellissima realtà che è il nostro territorio. Chiedo nuovamente, come abbiamo fatto nelle altre inchieste, di controllare da parte degli organi preposti. Ecco, l'operatore Andre Giaccio ha appena inquadrato da questo lato la macchia mediterranea bruciata da questi oli. Guardate qui, mi ritrovo proprio in mezzo alla macchia e vedete la differenza palese del nero che creano sul verde delle piante. Ecco, io ho annusato, e mi dovete credere, c'è una puzza incredibile, un odore nauseabondo di olive. Quindi è assolutamente assodato che questo materiale è un materiale di risultanza della macinatura di olive. E può provocare un inquinamento maggiormente più intenso nel momento in cui comincia a piovere. Perché se vedete dall'altro lato, man mano ci sono delle macchie tra il verde e il marrone. Quello significa che col tempo, man mano che scendono le piogge, questo olio, questa risultanza di rifiuto, in realtà scende giù e distrugge tutta la macchia mediterranea. E' uno scempio assolutamente incredibile. Mi auguro che chi preposto venga subito a fare un controllo in questa zona perché stanno rovinando questo territorio. Assolutamente bisogna intervenire. Guardate, anche da quest'altro lato le piante ormai sono diventate scure. E non è possibile che in una realtà così bella, che è quella del cilento, ci siano persone così cattive e senza scrupoli. E' talmente inquinante questo materiale di risulta che riesce a macchiare anche le pietre. Vedete la differenza tra questo masso e l'altro più sotto. Come vedete, qua proprio c'è stato uno sversamento enorme di questi materiali inquinanti. Qualche giorno fa è accaduto nel fiume Testene. Il fiume Testene è diventato marrone. Non è la prima volta che accade. Capita sempre in questo periodo, in questo periodo dove c'è la macinatura delle olive. E nello stesso tempo quest'anno, d'altra parte nel nostro territorio, la raccolta è andata bene. Quindi suppongo che anche tanti olifici hanno lavorato bene per produrre del buon olio. Non facciamo che questa preziosità del territorio venga meno per colpa di persone senza scrupoli che rovinano il territorio per questo. Questo è il percorso che l'olio, una volta sversato dalla strada, come vedete scende a valle e quindi percorre tutto questo tratto. Badate bene, sullo sfondo si vedono anche degli animali, dovrebbero essere delle mucche che pascolano in quella zona. Immaginate se loro entrassero in contatto con questo materiale. Che cosa succederebbe? Questo lo chiediamo a quelle persone che hanno sversato questi rifiuti in questa zona. È allucinante davvero. Tutta questa zona è inquinata da questo olio che è la risultanza del rifiuto di un oleificio. Vi posso assicurare che affacciandomi ancora qui a valle ci sono altrettante macchie di questo olio scuro che in realtà distrugge la natura circostante. Ebbene, voglio chiudere questo servizio con un appello ancora una volta a chi deve vigilare sul nostro territorio affinché possiamo preservarlo perché non è possibile che al giorno d'oggi possano accadere scempi di questo genere alla luce del giorno oppure della notte. Chi lo sa perché nessuno ha ancora visto chi in realtà attraversa questa strada per tre chilometri, badate bene, tre chilometri un inquinamento pauroso e man mano che siamo andati avanti qui ci troviamo a Tresino. L'inquinamento, lo sversamento abbiamo visto lungo la cunetta parte da località Cerrine e per tre chilometri tutto questo olio viene sversato fino ad arrivare a Tresino. Bisogna fare qualcosa? Noi staremo sempre attenti e mi auguro che le autorità preposte prendano provvedimenti.